Esporre le calorie nei menù dei ristoranti. Scelta saggia, inutile o potenzialmente controproducente? Parliamone insieme. In un mio recente viaggio in Scozia ho osservato che nei menù dei locali, praticamente tutti i locali, accanto alle varie pietanze e portate che si potevano ordinare, c'erano scritte le calorie. Qua vi faccio vedere qualche foto. E questo perché in Scozia, per legge, i locali devono proprio esporre l'apporto calorico dei vari piatti perché in Scozia, come in tante parti del mondo, in Italia non fa eccezione, c'è un'epidemia, si può dire, di obesità. Cioè i tassi di obesità sono in costante crescita e in Scozia stanno messi veramente, veramente male. Cioè quello che ho visto in quel viaggio ve lo risparmio. Un po' come in altri posti, come gli Stati Uniti, che vabbè sono famosi per questo, purtroppo, tristemente famosi, ma ormai ci sono tante nazioni che sono combinate così. E anche negli Stati Uniti, per esempio, è obbligatorio, credo che sia obbligatorio per legge, o comunque è consigliato esporre le calorie nei vari menù. Però questa è una scelta saggia, può effettivamente aiutare, oppure è inutile, oppure è potenzialmente controproducente. Mi piacerebbe parlarne insieme, adesso darò la mia opinione e mi piacerebbe appunto discuterne con voi nei commenti in maniera educata e pacata, mi raccomando, perché so che c'è sempre qualcuno che parte per la tangente. E quindi vediamo un po' di venirne a capo e vediamo se può essere effettivamente una scelta corretta. Secondo me, già ve lo dico, così corretta non è, più che altro la vedo quasi inutile, non completamente inutile, ma quasi inutile, in alcuni casi controproducente. Adesso mi spiego meglio. Fondamentalmente dobbiamo capire il perché le persone si trovano in un stato di obesità. E le risposte sono diverse. A parte il denominatore comune del mangiare troppo, perché se non mangi troppo non ingrassi, fine dei giochi, ah ma ci sono le patologie, ci sono le cose, anche in caso di patologie, anche in caso di cure farmacologiche e quant'altro, è sempre il mangiare troppo nel proprio contesto che fa ingrassare. Non ci sono altre possibilità. Quindi poi in alcuni casi è più facile mangiare troppo rispetto ad altri, però vabbè, quello è un discorso diverso. La stragrandissima maggioranza delle persone non ha questo tipo di patologie, la stragrandissima maggioranza delle persone non assume questo tipo di farmaci e ingrassa semplicemente perché mangia tanto. Ora, dobbiamo capire perché mangio tanto, ok? Perché mangiare tanto, ok, va bene, però perché lo faccio? Ci sono una categoria di persone che sono, passatemi il termine, dei mangioni, punto. Gli piace mangiare, mangiano lasagna, colazione, pizza fritta, merenda, e sono contenti così, ingrassano e non gliene frega niente di dimagrire, del grasso, della panza, del vestito che non gli entra. E sono tante le persone così, soprattutto in certe zone. Questa tipologia di persone, se ne sbatte che ci siano le calorie scritte nel menù quando vanno al ristorante, non gliene frega niente, cioè non gliene importa nulla, quindi mangiano tanto e continueranno a mangiare tanto perché tanto di quelle calorie non gliene frega assolutamente nulla. Quindi per questa tipologia di persone, questa tipologia di approccio è completamente inutile perché tanto se ne sbattono. Poi ci sono quelle persone che invece mangiano tanto perché sfogano sul cibo dei disagi di natura emotiva, quindi può essere banale, tra virgolette, stress della giornata, lavorativo o quant'altro, ma ci possono essere anche delle motivazioni dietro molto più importanti che possono far sfogare le persone poi sul cibo. Per queste persone, vedere le calorie su un menù, anche lì, è da un lato inutile e dall'altro può essere anche controproducente per diversi motivi perché se io esco a cena con degli amici, con la mia compagna, il compagno, quello che è, e quindi è un'occasione sociale, è un'occasione diversa dalla quotidianità che può essere il mangiare il piatto di pasta a casa. Vorrei mangiare qualcosa che mi soddisfi, che mi piace, vedo il menù, vedo quello che c'è, questo è buono, l'altro boh, mi può piacere, non mi può piacere. Se invece io ci trovo scritte le calorie accanto, magari in una condizione psicologica non perfettamente, diciamo, al 100%, con persone che appunto sfogano sul cibo i propri problemi oppure, peggio ancora, persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare come può essere l'anoressia o altre tipologie, nel vedere quelle calorie scritte accanto possono avere dei grossi problemi a godersi anche il momento perché magari se io vedo quelle calorie nel menù, magari sarò tentato ad ordinare il piatto meno calorico, per esempio, che magari però non mi piace, magari non l'avrei voluto ordinare, volevo ordinare un'altra cosa, magari c'è la pasta, che ne so, con le cime di rapa e la carbonara, la pasta con le cime di rapa è meno calorica e la carbonara, però io avrei voluto ordinare la carbonara, però essendo meno calorica mi piglio la pasta con le cime di rapa. E magari non me la godo perché magari manco mi piacciono le cime di rapa, cioè a me piacciono, però c'è questa, diciamo, problematica qua, che intanto non risolve il problema perché semplicemente se una persona mangia tanto perché lo fa emotivamente parlando, non lo fa al ristorante, nel senso, non è, quando va e esce a cena allora lì si abbuffa come ci fossero domani, e sono altre le occasioni nelle quali si mangia tanto. E infatti altro motivo per cui io trovo mediamente inutile è proprio che la maggior parte delle persone che mangia male, mangia tanto, per motivi emotivi, non lo fa spesso e volentieri a tavola, lo fa fuori dalla tavola, non lo fa al ristorante, lo fa a casa, oppure lo fa comunque in altri luoghi dove può avere accesso a snack per lo più, che possono essere le patatine, i tarallini, i biscottini, non sapendosi fermare, non sapendoli gestire e quindi sfogandosi su di essi durante la giornata, facendolo anche sovrappensiero e quindi il sapere che, che ne so, una pizza ha 1200 calorie, cioè frega poco perché non sarà quello a impattare sulla mia salute, sul mio peso, ma saranno tutti i gesti, magari piccoli, nella giornata però ripetuti, come appunto mangiare le patatine o altro, che magari sono ripetuti, anziché mangiarne un mucchietto, mangio il pacco intero, perché adesso ne prendo una, dopo ne prendo un'altra, e questa è una cosa che ripeto più volte nella giornata, oppure abuso di alcolici, perché gli alcolici sono ipercalorici, sono persone che ogni giorno bevono vino, questa è un'abitudine molto sbagliata, che porta anche ad ingrassare, perché il vino, tipo un bicchiere di vino, può arrivare anche a 150 calorie, che non sono poche, ok, cioè due bicchieri di vino sono equivalenti più o meno a un piatto di pasta, cioè non è banale, ok, come apporto calorico subdolo, perché non ci facciamo caso, oppure persone che bevono bibite zuccherate ogni giorno, e ovviamente anche quello è un comportamento sbagliato, quindi il sapere che ci sono tot calorie nel piatto di pasta che sto prendendo al ristorante, non mi aiuta da quel punto di vista, perché il 99% degli errori io li commetto a casa, ok, smangiucchiando o quant'altro. Uno degli motivi per cui viene fatta questa cosa è che ci sono un sacco di persone che mangiano spesso fuori, cioè i lavoratori, per esempio, ci sono un sacco di lavoratori che mangiano in mensa, e quindi il pranzo, quantomeno un pasto della giornata, che sia pranzo o la cena, dipende magari se uno lavora su turni, lo fa in mensa, e sapere effettivamente più o meno quante calorie ha il piatto in mensa, questo e quell'altro, può magari aiutare a avere un po' più di consapevolezza sul momento, che effettivamente è vero, perché molte persone lì fuori non hanno la minima consapevolezza di quanto effettivamente stanno mangiando, di quante calorie ha gli alimenti che stanno mangiando, ci sono persone che penso che ci sono alimenti che non abbiano calorie, tipo, più di una volta mi è capitato sui social di persone che mi scrivessero che secondo loro mangiavano sbadilate di cioccolato fondente, perché secondo loro il cioccolato fondente fa bene perché non ha neanche le calorie, anzi fa dimagrire, cioccolato fondente supera le 600 calorie per 100 grammi comodamente, cioè sono tante, d'accordo? Però per alcune persone che non hanno calorie perché, anzi, perché hanno letto su Google che addirittura il cioccolato fondente faccia dimagrire, quindi manca la consapevolezza. Ora, secondo me il semplice numeretto calorico nel menù non risolverà il problema, in alcuni casi, ripeto, può crearne altri a persone un po' più fragili e nella maggior parte dei casi le persone o se ne sbattono perché non gliene frega niente le calorie, oppure comunque se sono fuori a cena e voglio mangiarmi la pizza a quattro formaggi, chi se ne frega che c'ha più calorie della margherita, cioè voglio la quattro formaggi e me la mangio in un momento conviviale, e quindi ecco che in quel caso me ne sbatto che ci siano quelle calorie lì, ok? Quello che bisognerebbe fare, secondo me, e non solo secondo me, è un'educazione alimentare a partire dalle scuole, cioè a partire dalla scuola alimentare, educare le persone a un'alimentazione sana, un'alimentazione corretta, anche inserendo nei piani di studio delle varie scuole di ogni genere e grado una materia che riguardi l'alimentazione perché c'è troppa ignoranza e troppa inconsapevolezza nei confronti di alimentazione, lì fuori c'è il far west e questo non va bene, questo non va bene perché tantissime persone, troppe persone, non hanno idea di come si mangi, cosa voglia dire mangiare bene, cosa voglia dire avere delle abitudini sane e corrette, che non è mangiare il petto di pollo alla piastra o le zucchine bollite, le buone abitudini sono altro, che poi portano a uno sfacelo, perché anche in Italia i tassi di obesità sono in costante aumento, soprattutto in alcune regioni, obesità infantile, obesità nell'adolescenza, sono in costante aumento, bambini sempre più obesi, e questo è fuori di testa, questo è fuori di testa perché un bambino obeso avrà una marea di problemi quando sarà grande anche se poi dimagrisce, perché una condizione di obesità in quell'età condiziona tutta la vita e non è giusto. Quindi per ciò che mi riguarda mettere, ripeto, i numeretti delle calorie nel menù del ristorante non ha un impatto reale sulla situazione grave che stiamo comunque vivendo da quel punto di vista, anzi in alcuni casi potrebbe essere anche controproducente, solo per una piccola cerchia di persone potrebbe aiutare effettivamente, perché magari uno è a mensa, magari sta seguendo già un piano alimentare, a mensa si sa regolare un pochino meglio, però parliamo di poche persone da quel punto di vista, e quindi può essere utile a poche persone, per la maggior parte può essere inutile, secondo me, o addirittura controproducente. Quindi ditemi la vostra, cosa ne pensate nei commenti, ripeto, parliamo di maniera pacata ed educata, e mi raccomando, sempre carichi e motivati, alla prossima!